ciao ragazzi di 3b sono mirko sono qui per presentarvi quello che andremo a fare all'interno del mio corso colore diciamo che non mi presento fondamentalmente con una mia collezione moda colore ma con tecniche che ci permetteranno di andare a interpretare sviluppare e soprattutto personalizzare la moda la domenica vedremo alcuni effetti su modelle una sarà fatta direttamente sul palco il lunedì andremo a sviluppare a giocare a vedere mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto la domenica oltre a tutto questo proporò anche una tecnica fatta con la macchinetta da asciutto tecnica che con pochi passaggi ci permette di andare a sviluppare a enfatizzare valorizzare di più ancora quello che abbiamo disegnato con il nostro servizio colore detto questo vi saluto vi aspetto ciao a presto grazie a tutti